Convenzioni tra comuni per elaborare piani d'area per un utilizzo più veloce ed incisivo dei fondi comunitari. I sindaci dell'area adriatica del Capo di Leuca hanno discusso presso la sala triangolare del Castello di Otranto alla presenza del dottor Pasquale Orlando, dirigente e coordinatore per le politiche dello sviluppo ed attuazione dei programmi comunitari della Regione Puglia e del dottor Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo. L'impegno assunto dai 21 sindaci presenti è quello di stipulare la convenzione entro il mese di luglio in modo tale da essere pronti in autunno con i progetti strategici da sottoporre alla Regione. I sindaci aderenti all'iniziativa sono concordi nell'avviare un lavoro comune per utilizzare bene nei tempi più rapidi possibili le risorse comunitarie e pubbliche disponibili. Per l'area del Capo di Leuca, comune capofila sarà Tigiano con il sindaco Ipazio Antonio Morciano. Per l'area adriatica, invece, è otranto del sindaco Luciano Cariddi. L'iniziativa è stata promossa dal Partito Democratico. Presenti all'incontro il segretario provinciale Salvatore Piconese e Gabriele Abaterusso, il coordinatore della segreteria. L'iniziativa, sottolinea Piconese, è parte integrante del patto per il Salento che abbiamo proposto al presidente Michele Emiliano. Ringrazio i sindaci e tutte le amministrazioni che hanno colto il senso profondo della nostra iniziativa e ha accettato la sfida della programmazione dal basso. Conferma Abaterusso. Vogliamo capovolgere lo schiena dominante delle passate programmazioni comunitarie. Non più comuni singoli che attendono i bandi e cercano di presentare i progetti all'ultimo minuto, ma enti locali che, anticipando i tempi dei finanziamenti, si associano su progetti strategici che riguardano un intero territorio, chiedendo alla Regione di mettere a disposizione le risorse finanziarie.